Ciao a tutti, sono Andrea e questo è il mio blog, Different Taste. Oggi ho ricevuto un pacco di pasta dal pastificio Luciana Mosconi. Ho deciso di preparare una ricetta invernale, i ceci con i maltagliati. Ci sono sia le versioni in rosso che in bianco. Io ho deciso di fare quella in rosso aggiungendo la loro passata di pomodoro, un po' di rosmarino e un po' di alloro. Vediamo come prepararli. Iniziamo la preparazione dei maltagliati, tritando un po' di verdure, quindi sedano, carote e cipolle, per fare un soffritto in padella. Accendiamo il fuoco e mettiamo a cuocere i ceci per circa due ore, aggiungendo al brodo di cottura una cipolla, un rosmarino, alloro, sedano, carote. Facciamo il soffritto mettendo un filo d'olio in padella e mettendo il trito che abbiamo appena preparato. Quando le verdure inizieranno ad appassire aggiungiamo un po' di passata di pomodoro e abbondante brodo e di ceci, che continueranno la loro cottura insieme al sugo. Prendiamo due mestoli di ceci e tritiamoli con il mixer, per poi reincorporarli nella padella. Quando mancano un paio di minuti a termine la cottura, aggiungiamo i quadrucci, mescoliamo e cuociamo per altri quattro minuti. I maltagliati con i ceci sono pronti, a questo punto basta aggiungere un filo d'olio e servire caldo. Ricordatevi, se vi è piaciuta questa ricetta, di mettere un mi piace sotto questo video, condividerlo sui vari canali social e seguirmi su Facebook, Instagram e sul mio blog. Alla prossima!